Io vorrei intervenire solo su un aspetto specifico, su un'azienda in particolare, ed è multiservizi. Come tutti sanno, le problematiche relative a questa azienda io le ho seguite dal primo momento, per cui conosco perfettamente il percorso che è stato fatto con multiservizi. Prima di parlare di questa procedura di 25 suberi che è stata aperta ieri da multiservizi, io vorrei fare qualche premessa. La premessa è che in tutta questa storia qualche errore noi l'abbiamo fatto, i lavoratori anche se ci hanno fatto qualche critica qualche volta non è che erano completamente infondate. Certo che le critiche non le possiamo accettare quando arrivano dai banchi delle opposizioni, tanto più dal PD, che nella scorsa consigliatura Marino hanno previsto la dismissione di multiservizi senza prevedere nessuna soluzione alternativa. Dunque, dismissione, punto. Noi per quanto non siamo riusciti a fare esattamente quello che avremmo voluto fare, siamo arrivati ad una soluzione che salvaguarda migliaia di posti di lavoro. Per cui, ripeto, se dai lavoratori qualche critica l'accettiamo, dai banchi dell'opposizione sinceramente no, perché quello che hanno fatto loro è di gran lunga peggiore di quanto sicuramente non abbiamo fatto noi. Detto questo, in relazione alla procedura che è stata aperta ieri da multiservizi su questi 25 lavoratori, questa amministrazione si è attivata immediatamente ed è stato da poco aperto un tavolo aziendale e sindacale coordinato dal direttore generale Gian Paoletti e per quanto ci riguarda ha un obiettivo questo tavolo, arrivare ai suberi zero. Questo deve essere l'obiettivo di questo tavolo, perché noi abbiamo preso degli impegni e questi vogliamo mantenere. Grazie.